Ladies and gentlemen, ciao a tutti, buonasera, qui con voi stasera c'è il vostro fratello Dimitri, The Man, siamo qui da Exod Records Label, abbiamo appena finito di registrare la prima nostra canzone, Shake a Miss, featuring Prom C, la ultima nostra canzone potete aspettare anche approssimamente un video che sarà fatto in collaborazione con Mr. Prom C, Strike From Venezia City, che lo potrete vedere sul sito ufficiale di Exod Records Label Vorrei ringraziare tanto My Bro Prom C, tutti i ragazzi di Venezia che mi hanno accolto con calore qui a Venezia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti